Ok, allora, ribongiorno a tutti, anche in questa settimana, la sesta se non sbaglio, siamo quasi al giro di boa, come dicevamo la settimana scorsa perché sulle 14 settimane di corso le ultime due vanno poi a cavallo delle vacanze di Natale e si avvicinano all'esame, quindi saremo circa alla metà dei contenuti, delle 12 settimane di contenuti e così come hanno anche fatto altri miei colleghi negli altri corsi, abbiamo pensato di prendere un minimo il polso di quella che è la situazione, per cui vi avevo chiesto nei giorni precedenti di provare a rispondere a questo questionario, molto sintetico e rapido, per riuscire a commentare insieme i risultati, poi vi do un altro paio di informazioni per cercare soprattutto di aiutare e supportare quelli che sono in queste due categorie, quindi diciamo così, hanno risposto un centinaio di persone scarso, che è circa un terzo di quelli che sono iscritti a Slack, quindi diciamo che il tasso di risposta non è stato altissimo, quindi di sicuro hanno risposto meno persone di quelle che sono sedute in quest'aula, però questo è un po' come sempre un problema perché chi risponde di solito è chi già sta frequentando un pochino più assiduamente il corso, quindi immagino che chi non ha risposto, la distribuzione delle risposte che avrebbe dato chi in realtà non ha risposto sarebbe stata peggiore rispetto a quelle che vediamo qua. Comunque qua si vede circa metà o giù di lì di persone che dicono non abbiamo problemi su questo corso, come vedete la domanda è soprattutto sugli esercizi, perché la parte in cui vi mettete in gioco voi e riuscite effettivamente a capire se siete in grado di seguire o di assimilare i concetti che stiamo trattando. Mentre invece c'è una quarantina di persone, 45-46 persone, nella fase in cui mi sembra di capire, però quando mi metto a fare gli esercizi o richiedono troppo tempo oppure mi perdo e non riesco ad arrivare alla fine. Su questa parte di popolazione, lo dico in generale ma non siete popolazione, siete persone singole, vorrei riuscire a concentrarmi nel senso di cercare di aiutarvi a passare il più possibile nell'altra parte. Poi le motivazioni possono essere le più diverse, magari chi è nuovo all'approccio della materia, chi si è talmente innamorato di analisi chimica che dedica tutto il tempo alle milioni di cose che vi fanno fare, per amore o per dovere, o insomma altre cose. Il problema è che soprattutto queste due barre, se non riusciamo a portarle sotto, ci sarà poi un problema all'esame, nel senso che non voglio spaventare nessuno, ma siamo qui a neanche metà corso a ragionarci proprio per non avere poi sorprese spiacevoli più avanti. Quindi se volete su questo tema anche condividere, anche in forma anonima, anche in forma privata, non c'è problema, le difficoltà che incontrate cerchiamo di trovare dei rimedi, cerchiamo di incontro. cercate anche di farmi avere, di farmi sapere, purtroppo le giornate del martedì ho lezioni di un altro corso, quindi non riesco neanche a mettere il naso nell'aula di laboratorio per vedere come vanno le cose. Però fatemi sapere se il tipo di supporto, il tipo di attività che si svolge il martedì vi è sufficiente, è strutturata nel modo giusto. Noi abbiamo la lezione online del martedì del laboratorio, alle 10 del mattino, dove non c'è quasi mai nessuno che si collega, no? Quasi mai nessuno che fa domande. Però quello è uno slot che si potrebbe, visto che non è molto utilizzato, potremmo invece usarlo, no? Magari come supporto aggiuntivo, come, diciamo così, eventualmente anche per riprendere gli esercizi della settimana prima, no? Sapendo che lì c'è uno slot in cui poterli, una settimana di tempo per svolgerli e lì magari li può vedere. Cerchiamo anche di essere creativi, di trovare soluzioni che possono venirvi incontro, ok? Quindi io, non siate timidi, tanto sapete che alla mia età ormai la memoria è andata, quindi se mi dite una cosa io non mi ricordo chi mi ha detto cosa all'esame, cioè sapete che ho di meglio di fare nella vita che ricordarmi che uno che si chiama in quel modo mi ha detto una cosa. Però chiaramente se riusciamo, quindi il discorso mandatemi pure dei messaggi e cerchiamo di trovare degli aiuti, no? Non è grave, scusate, torno indietro, non percepisci la situazione come grave, a parte questi poveretti tre persone che veramente, ditici come possiamo cercare di aiutarvi, ma per la maggior parte delle persone si tratta di magari dare un aiuto in più, magari una parola in più in una direzione giusta per aiutarvi a sbloccarvi. O per capire, ecco, quello che se vogliamo l'esperienza mi insegna è che a volte uno non riesce a fare, impostare un esercizio perché sta ragionando nel modo sbagliato, perché sta provando a applicare un metodo di ragionamento che non è adatto all'informatica e quindi poi non si trova, quindi cerchiamo di interagire, no? Appunto per migliorare queste cose. Ecco, una delle misure che ovviamente ce l'avete già anche negli altri corsi di sostegno è quella del tutoraggio, ok? Anche informatica ha delle ore di tutoraggio fatte da studenti un pochino più maturi di voi, nel senso di anziani, no, del secondo o terzo anno e da adesso fino almeno al 13 gennaio ci sarà un orario fisso di tutoraggio che sarà ogni lunedì dalle 11.30 alle 13.00. Ci sono due ragazzi diversi, ragazze non so chi siano ancora, che lavoreranno in parallelo, uno al link 1, l'altro al link 2, ok? Quindi voi in quell'orario vi potete collegare quando volete, poi dipende un po', ci sono alcuni ragazzi che preferiscono dire l'ora di tutorato vi risolvo gli esercizi e vi faccio vedere una possibile soluzione di esercizi di laboratorio. Altri ragazzi che preferiscono invece rispondere alle vostre domande, qui chiaramente ciascuno un po' si organizza in modo diverso, ciascuno dei tutori organizzerà l'attività in modo diverso, però sfruttate, se vi accorgete di averne bisogno, sfruttate questa possibilità, tutte le settimane ci sono questi, per un'ora e mezza c'è la disponibilità di avere uno studente come voi con cui sfogarsi, con cui far vedere gli esercizi con cui capire qualche cosa in più. C'è scritto fino al 13 gennaio, non perché poi dopo il tutorato smetta di esistere, ma poi cambierà orario perché ci sarà poi la sessione di esami, ci sarà poi il secondo semestre e quindi questo è l'orario del tutorato fin tanto che ci saranno le lezioni, quindi tutti i lunedì. Poi vi fornirò degli aggiornamenti sugli orari successivi per le settimane d'esame, per il secondo semestre, magari il secondo semestre all'inizio non lo attiviamo il tutorato, ma lo attiviamo poi a maggio in vista di chi deve preparare l'esame per giugno e cose di questo genere. Adesso questi link qua ovviamente li avete imparati tutti a memoria, ma per chi per caso non avesse, si dimenticasse l'ultimo carattere, ovviamente alla fine della lezione ve li metto su Slack, così avete il link per potervi collegare. I tutorio ovviamente sanno qual è il programma che viene svolto, sanno quali sono gli esercizi di laboratorio, quindi sono preparati, mediamente questi tutori sono più preparati rispetto ai borsisti che trovate in aula, nel senso che il bando per selezionarli ha dei requisiti più elevati, quindi dovrebbero darvi effettivamente un aiuto in più rispetto a quello che già trovate nell'ordine di laboratorio. L'ultima cosa che volevo fare a livello di avvisi iniziali, mi sono preso la prima 20 minuti, mezz'ora 20 minuti per parlare di queste cose, è lanciarvi un secondo sondaggio, che adesso vi lancio qua in tempo reale, perché oggi iniziamo un argomento nuovo che è quello delle funzioni, però lo so, lo sapete che l'argomento sui cicli non è ancora stato totalmente digerito, ma è normale così. La settimana prossima inizieremo le liste in cui poi incrociando la struttura dati in nuova lista e con le cose che sappiamo sui cicli, vi preannuncio già, si complica tutto parecchio. Allora io vorrei dedicare anche un po' di tempo a riuscire a consolidare meglio le attività sui cicli. Allora, quello che vi proporrei è di usare la lezione di domani per risolvere insieme o vedere insieme abbastanza rapidamente le possibili soluzioni agli registri di laboratorio, delle ultime due settimane, che sono il laboratorio 5 e il laboratorio 4 che sono quelli sui cicli. Quindi io qua ho messo i numerini degli esercizi di laboratorio 4-1, 4-2, 4-3 eccetera, fino al 5-6. Mi sembra che ciascuno di voi possa scegliere al massimo tre voti e se mi votate entro domani, io domani mattina nella lezione scelgo gli esercizi che sono stati votati maggiormente, sui quali avete trovato più difficoltà e proviamo a farli insieme. Tenderei domani a non farli per filo e per segno come se fossero esercizi nuovi, perché comunque li avete già visti, ci avete già provato, quindi tenderei a cercare magari di fare più esercizi, vedere insieme senza perderci troppo nelle spiegazioni del testo eccetera, ma poi lo possiamo fare interattivamente. Ovviamente ha senso se avete già provato a farli. Poi sapete che sul sito pubblico le soluzioni degli esercizi, ma le soluzioni per me lasciano sempre un po' il tempo che trovano perché uno si vede l'esercizio finito o è facilissimo oppure il ragionamento che c'è dietro se aveva difficoltà a farselo da solo di sicuro non lo capisce dal laboratorio finale, cioè se tu leggi la Divina Commedia non è che diventi automaticamente poeta. Sì, puoi imparare dei trucchi, vedere degli elementi che poi potrai riusare, ma quello che è importante è mettervi in gioco voi stessi, vedo che cominciano già ad arrivare dei voti, ma chiaramente lo chiudiamo domani quando è all'1 alla lezione, quindi poco prima vado a tirar fuori i dati e li risolviamo insieme. Stavo dicendo le soluzioni le vedo pubblico, però domani invece le rifaremo da zero senza guardare le soluzioni. Secondo me non serve quasi a nulla commentare una soluzione già scritta, ma l'unica cosa che serve è costruirla insieme, magari rapidamente ma costruirla insieme. Dimmi c'è una domanda. quel gioco sul numero, sì, se è possibile anche vedere quello, indovina il numero, sì, eventualmente sì. Quello, sì, va bene, se lo ritenete lo possiamo vedere velocemente. Diversi hanno già, cioè prendete pure anche l'abitudine, fate un esercizio, provate a mettere il codice, magari su REPL mettete il link, un'occhiata io riesco a darcela. Se vi è venuto, non ho tanti commenti da fare, dico magari do qualche suggerimento di migliorativo, a maggior ragione se non vi è venuto è importante capire dove uno si è bloccato. Allora se vi bloccate ma rimanete bloccati nella vostra stanza io non risco di aiutarvi. Se fate il passo in più di dire, senti, sta cosa qua non mi viene, non ci capisco niente, magari non ve lo risolvo perché non servirebbe a niente, ma magari cerco di darvi suggerimento per sbloccare un primo passo, magari vedo già che vi bloccherete il passo dopo, ma fa lo stesso, facciamolo, ok? Quindi usiamo pure questo tempo, abusate pure del mio tempo anche fuori delle lezioni, ma siamo qua apposta, no? Il mio interesse è quello di vedervi il numero minore di volte possibile all'esame. Ok, quindi domani faremo questa operazione qua di risoluzione insieme di esercizi. Grazie. Grazie.